Sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022 tornano le giornate FAI d'autunno, undicesima edizione dell'appuntamento che il Fondo per l'Ambiente Italiano dedica al patrimonio culturale e paesaggistico. Luoghi ed edifici inediti e sconosciuti verranno mostrati e illustrati da delegati e volontari della Fondazione, Castelli, Ville, Palazzi, Carceri, ricco il programma anche in provincia di Salerno. Abbiamo Camerota con la visita a Palazzo Santa Maria e ringrazio anche Don Gianni Citro, l'entiscosa alla chiesa di Santa Maria de Martires. A Fisciano siamo molto contenti quest'anno di realizzare un percorso all'interno del campus per illustrare il ricco patrimonio di arte contemporanea. A Salerno invece saremo presenti in Banca d'Italia, Palazzo della Provincia, la chiesa di Sant'Agostino e ancora un percorso che attraverserà il centro storico ispirandosi ad un'idea dell'architetto Mario dell'Acqua. Per alcuni siti è necessaria però la prenotazione. Bisogna andare sul sito di Giornate Fai, da autunno, cliccare su Salerno. Le prenotazioni sono per Banca d'Italia, Campus Universitario di Fisciano e Passeggiata di Guaiferio.